Eh sì, così funziona, ma adesso andiamo con l'incio. Cravero! Serezzo! Ridle! Ha fatto la barba al palo. Ciocci! Di Mauro su Diego... su... Diego Fini. Non mi pareva vero, adesso. Non mi pareva riconoscere. Marchegiani e Casivaghi! Tassotti! Chiciobello Desideri. Alemao su Aldair. Lunini su Ferroni. Dolore sempre vivo. Pagliuca. E il commento di Boscov. Boban e l'arbitro Delia. Cravero su Reuter. Antipremi. Sebino Nela. Braglia. Fairfurt. Tacconi! Rijkaard sull'arbitro Lanese. Che male! Nicolino Berti. Aguilera sull'arbitro Baldas. E protesta, poi. Policano su Casiraghi. La rivediamo da un'altra angolazione. Lo tocco piano. Biercovod. Fontolare Montanari. Il portiere Savorani. Del Pescara. Un balletto di Putelli e Franceschetti del Padova. Attenzione, eh. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Brunetti del Taranto. La tribuna dello sedio di Cesena che balla. Una tribuna che balla. E guardate cos'è successo oggi a Pasquale Bruno. Qua. Doppia munizione. E quindi espulsione. E fin qui niente di male. Lui è tranquillo, vedi, non se la prende. Infatti. La ritiene una decisione giusta. Sì, dice in fondo io me la meritavo. Sta andando a dirlo all'arbitro, vedi. Anzi, vado a dirglielo. Gli dico, guardi, arbitro, io... Ha fatto bene. Sono d'accordo con lei, lei ha fatto bene. Spero, gliele voglio proprio dire. Guardi, vengo lì e glielo dico. Ecco. Ecco, adesso glielo vorrei dire. Però l'arbitro non vuole ascoltarmi. Se me lo lasciano dire, io glielo dico. No, è colpa dei compagni. E anche nel codino di Lentini, eh. Gli fa perdere completamente la ragione. Vedete, lasciatemelo dire all'arbitro che ha fatto bene, ma i compagni non vogliono. Non è questo il modo di comportarsi, in effetti. Povero Bruno. Poi qua dice, vabbè, pazienza. No, no, glielo devo dire, glielo devo dire. Gli devo farmi dire. Fatemi andare, voglio fare i complimenti all'arbitro. Ma niente da fare. E a questo punto... Siamo all'angolo dell'abinente. Gli unici problemi ammanassi? Oggi Rudd Gulli te l'ha avuto per l'antidoping? No, perché oggi sono andato lì subito e l'ho fatto subito. Ah, a Bari ho avuto più difficoltà. Non è proprio nessun problema. Ma che schifo. Di Pannolini parliamo alla puntata.